ciao in questo video vi faccio vedere la mia metodologia per fare la briglia minimal a un aquilone a quattro cavi con un bordo d'attacco largo 240 centimetri e cioè nel quale ci vanno tre stecche da 82,5 centimetri innanzitutto bisogna decidere quale filo cavo usare io generalmente uso spectra da enema usato e strecciatissimo uso il 90 libre dall'ultralight in giù c'è ultralight super ultra super super ultra super 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 ultra fino all'indoor che è un aquilone che uso outdoor per quando c'è vento quasi praticamente zero invece per lo standard ventato uso spectra da enema da 150 200 anche 250 libre in alternativa c'è il filo in poliestere da due o al massimo tre millimetri normale con l'anima interna in sempre in poliestere oppure io consiglio di usare filo in poliestere più tecnico e più anelastico con l'anima interna in spectra da enema il primo ramo delle briglie io generalmente parto dal ramo centrale che è 79 più 10 più 8 per cui 97 centimetri lo arrotondiamo a un metro più di aggiungo altri 30 40 centimetri per essere comodo per far sì che il cavo il filo mi si avvolga intorno alle dita della mano e per poterlo serrare bene con l'incontro negli incontri nei punti di incontro con gli altri due rami per cui 140 per 2 2 80 lo piego in due lo faccio passare nel buchino del lidi negge lo piego in due e lo serro con un nodo semplice uno sopra l'altro cioè con più nodi semplici finché non si avvicina quel nodino alla tasca del bordo d'attacco nel punto centrale dell'aquilone il secondo ramo della briglia minimale io generalmente parto dal ramo della stecca verticale che è 20 più 10 più 8 per cui 38 centimetri arrotondo a 40 più gli aggiungo altri 40 centimetri per di cavo per poterlo avvolgere intorno alle dita e per poter poi tirare bene quando devo unirlo agli altri rami per cui 80 centimetri più devo fare una asola piegata in due cioè un doppino che vado a serrare con tre nodi molto vicini l'uno dall'altro tre nodi perché io uso uno spectra da enema se uno usasse un filo in poliestere ne basterebbero anche due l'asola che vado a formare l'attacco con semplicemente con un bocca di lupo alla cocca della stecca verticale e non sull'idineggie perché se l'attaccasse sull'idineggie tirando la briglia andrebbe a schiacciare la stecca dell'idineggie per cui a renderla in quel punto più fragile di questo ramo di briglia ovviamente ne devo fare due uno per ogni ala il terzo ramo della briglia minimal è quello che parte dalla punta d'ala superiore che finito è 47,5 centimetri per cui io taglio un filo da più o meno 50 più i soliti 40 per poterlo bene avvolgere sulle dita per cui 90 centimetri più devo fare un'asola piegata in due cioè un doppino serrato per cui alla fine con l'asola sarà un filo finito intorno ai 90 centimetri il doppino serrato se uso spectra da enema gli faccio sempre almeno tre nodi perché lo spectra da enema è un filo un cavo scivoloso ovviamente lo attacco sulla cocca con il classico bocca di lupo di questi fili ne devo fare due uno per ogni ala l'ultimo ramo per completare la briglia minima è quello della punta d'ala inferiore generalmente anzi sempre uso un spectra da enema molto più spesso di quello del superiore perché questo è un ramo unico singolo per cui uso spectra da enema da 200 250 libre o anche un pezzettino di di cavo di poliestere per cui da due millimetri il questo filo ovviamente ne faccio sempre due lo taglio da circa 20 25 centimetri piegato in due per cui mi esce un filo doppio da circa 10 centimetri che attacco alla cocca con il classico bocca di lupo lo faccio uscire doppio e gli faccio un nudino a due qua c'è scritto due ma glielo faccio anche a uno molto vicino alla cocca a un centimetro per fare un nodo semplice un po grosso voluminoso un po spesso se non è sufficientemente spesso gli faccio un secondo nodo semplice sul primo nodo semplice per cui questo è il mio metodo per fare la briglia sulla punta d'ala inferiore per brigliare il mio aquilone io uso un filo da 90 libre per cui fine per fare le briglie il filo che mi sono tagliato da due metri e 60 lo faccio passare nel centro dell'aquilone lo piego in due e gli faccio un nodo semplice qua gli faccio più nodi semplici uno sopra l'altro per far sì che poi non si apra belli serrati e questo è il filo da 260 piegato in due 130 di qua e 130 di là mi preparo quattro cavetti da 80 90 centimetri finiti allora faccio il doppino lo piego in due e gli faccio almeno come minimo tre nodi belli serrati l'uno dall'altro belli tirati ma anche quattro di nodi questo qua è il preparo di quattro cavetti per fare la briglia minimal con il doppino e lì con i suoi nodi lunghi più o meno 80 centimetri ok i cavetti da 80 centimetri più o meno li attacco alla cocca al punta d'ala superiore ovviamente con il solito bocca di lupo 1 alla cocca della stecca verticale 2 e gli altri due di là pronti e in mezzo invece c'è il 120 centimetri che mi andrà di là e 120 che mi andrà di qua ok io parto con la briglia con il ramo della briglia centrale ma uno può partire anche dagli altri rami è una mia convenzione ho iniziato così parto da qui e mi segno il punto dei 79 centimetri ovviamente il pennarello non lo segno solo da una parte giro anche il cavo che da tutte le parti dei due cavi io voglio vedere il puntino nero del 79 centimetri poi come secondo prendo il ramo della briglia attaccata al leading edge con il metro e faccio il segno a 20 centimetri sempre tutto intorno al cavo per cui questo 20 centimetri e di là è il 79 adesso li unisco i due puntini e gli faccio un nodo semplice tra di loro ok il ramo che parte dal dal centro dell'aquilone di 79 centimetri il ramo che parte dalla stecca verticale dell'idinegg ho fatto i due segni lì pareggio li metto allo stesso punto i due segni facendo in modo che intanto non mi deve scorrere l'uno con l'altro dentro quando serro vedi già si è spostato si sono spostati cerca di pareggiare i due segni devono essere di che tiro un po di qua tiro un po di lano non è questo eccolo qui è questo i due segni li voglio vedere sotto boniti no non è questo è questo ok adesso sono abbastanza vicini ok sono vicini sono sotto nel nodo piano a questo punto serro tiro tantissimo ok il primo nodo tra i primi due rami di briglia l'ho fatto adesso prendo l'altra misura che è qua ho già fatto il puntino a 10 centimetri sempre un puntino col pennarello che mi gira tutto intorno che deve congiungersi con il ramo che arriva dalla punta d'ala superiore che è a 47,5 ok io usando un filo molto fine qua lo lascio doppio qua adesso faccio il nodo semplice tra i tre fili e il finale di otto centimetri lo lascio triplo tre fili dove poi faccio il nodone il nodo che diventa un po grosso dove si attaccano i cavi di ritenuta ma perché io uso un filo fine da 90 libre se uno usa invece un filo un po più spesso all'unione tra i due rami qua ne taglia uno sul corrente del filo tagliato faccio un nodo semplice attaccato al nodo semplice che unisce i due rami di briglia in modo tale che tutto sia serratissimo e viene avanti con un filo non con un due poi quando unisce questo lo stesso discorso fa il nodo e poi gli ultimi otto centimetri fa uscire sempre solo un filo invece io faccio il doppio lì e il triplo finale perché uso spettra da 90 libre e perché poi questo qui è un aquilone ultralight se uso se faccio aquiloni standard uso anche dei figli un pelino più spessi ecco dipende tutto è proporzionato qua io ho i tre figli che arrivano li metto tutti i puntini uguali di tutti i tre figli e qua c'è al solito problema io adesso quando faccio il giro devo stare molto attento che i figli non scorrano uno più tirato dell'altro ma tutto adesso quando io serro devo serrare ecco infatti mi stanno sbananando io voglio serrare e guardare che dalla parte sotto del nodo i puntini devono essere tutti nello stesso punto ecco il nodo ecco sono nello stesso punto io serro tiro di brutto ok e qui mi escono i famosi tre fili tre che poi faccio il nodo a otto centimetri finale dove diventa un nodo un po grosso per il cavo di ritenuta ecco i tre rami si congiungono lì diventa doppio per il solito discorso del filo fine che io uso qua dal punta d'ala è fine e qua è triplo e faccio il puntino su tutti i tre fili a otto centimetri dove poi gli faccio un giro e un nodino l'otto centimetri boh è un po relativo io ho visto che ogni tanto magari servirebbe il nove il dieci qua voi potreste fare anche non solo un nodo a otto un nodo a otto dieci dodici un nodo a sei poi si vede qual è il settaggio giusto in base anche ai nodini delle maniglie ecco gli ho fatto il nodo a otto centimetri però vedo che il nodo è piccolino perché i tre fili da 90 libre fanno un nodo un po piccolo a questo punto gliene faccio un altro sopra ecco gli ho fatto l'altro nodo sopra adesso è abbastanza spesso per far sì che quando attacco il cavo di ritenuta non abbia possibilità di se si allenta di andare via poi ovviamente tutti i cavetti che avanzano di tutti gli attacchi questi qua ok dell'asola che ho fatto io li taglio a un centimetro il cavettino che avanza e poi gli do una bruciata cioè non ci devono essere a parer mio io non ho aquiloni con cavetti penzolanti che possono solo rompermi le scatole ecco la mia briglia minimal finita allora va beh qua per forza uno attacca con il bocca di lupo alla cocca nella parte della stecca verticale io una volta va beh che io le brilli minimal non ne faccio quasi mai le ho solo sugli ultra ultra light ma la briglia diretta o comunque in questo caso la minimal una volta anni fa le attaccavo direttamente al buco dell'idinege però poi ho cambiato metodo perché lì tira e magari la stecca mi si spacca allora io la briglia minimal in questo punto l'attacco sempre alla cocca dietro però poi ognuno fa quello che vuole questo è il mio metodo ok ovviamente poi ho tagliato vedete tutti i picciolini e li ho bruciati con l'accendino non devo avere invece non devo avere fili che mi pensano in giro se no mi non mi piace e qua invece il punto del cavo di ritenuta l'ho tagliato poi lo brucio e quando il fuoco arriva fino alla fine intanto mi sono già sputato sulle mani quando arriva fino alla fine io tac lo schiaccio e lo saldo ben bene al nodo senza bruciarmi le mani perché gli ho dato una sputata sopra ok spero di essere stato abbastanza chiaro ciao raga